Ciao Giovanna, quest'anno se non vado errato compi 40 anni, siamo l'anno di 40 e volevo quindi prendere l'occasione per farti un saluto ma anche tanti auguri facendoti i complimenti per questi meravigliosi primi 40 anni e sperando che gli altri 40 siano ancora più belli con grandi successi e grandi prospettive. L'unica cosa che mi viene da dire, fare un appunto nei primi 40 è che sei stata molto brava a fare quello che hai fatto nella scherma, sei stata eccezionale a creare una famiglia meravigliosa, un bacio a bimbi e a tuo marito, l'unica cosa ti vuole ricordare che nei primi 40 anni non abbiamo ancora mai cominciato, proprio neanche io e vicino, quindi ecco se, poi magari parliamo anche con tuo marito, con un amico, se troviamo un accordo, ora non dico di andare per una pomiciata, nel prossimo 40 anni sicuramente ci potrebbe anche stare, ecco pensaci un attimo, comunque ti saluto, ti voglio bene, ti bacio a bimbi, ciao!